Musica Hello guys, Ryan here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Allora, nello scorso episodio, se vi ricordate, abbiamo messo a riempire le nostre battery box Come ben vedete, sono un po' pieno, oh mio dio Perché siete fermi, no? Dovete andare, porca mignotta, come faccio io? Ecco Perché siete fermi, no? Non dovete essere fermi, dovete andare, 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 andare Ma mi converrebbe, secondo voi, metterli più in alto, queste cose? Domanda da mille milioni, di miliardi, che solo voi, brothers, riuscirete a soddisfare Detto questo, intanto, passiamo al crafting di oggi Che sì, sarà fare altre 2-3 battery box Quindi, quindi andiamo a fare altre 2-3 battery box Dobbiamo fare prima le batterie che si fanno con la Nycollided E poi del Copper e della Tin Se non ricordo Nicolita, Copper e Tin sono desiderati alla cassa 7 coincidenze? Non credo Ok, allora, facciamone 6, perché servono 2 per batteria, giusto? Yeah, no, 4, quindi 6, non ci faccio un cazzo Mi serve altra Tin, yes! Andiamo a prendere un po' di UU, buongiorno Ne abbiamo davvero poca di UU, metter, sì, sì Ne abbiamo davvero, davvero poca Ok, c'è un po' di Tin Un altro po' di Tin E basta, perché poi, sennò, mi riempie troppo di Tin Buongiorno Mi cuocia il tutto Andiamo a mettere questo? No, andiamo a prendere questo Andiamo a mettere questo qua Andiamo a mettere questo a posto E al tempo che arriva la Tin Eccola lì Andiamo a farci altre 2 batterie Per fare esattamente Altre 2 batterie box Proprio semplice, semplice Andiamo a fare questo Questo, questo, questo Poi andiamo a prendere Che c'era? Del legno sopra? Non mi ricordo Sì, legno No, sì, era legno È legno, è legno Però adesso è legno Mamma mia, perché mi fate vedere questi dubbi esistenziali? Ma io non lo so E ci facciamo 2 batterie box Ma io ci facciamo 2 batterie box Oh Oh, questo andiamo a mettere a posto Buongiorno Ho detto buongiorno Grazie, 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 grazie Andiamo a mettere questa roba qui Bella Ah, andiamo a metterne una qui E una qui In teoria dovrebbe passare l'energia Anche a questa roba qua E infatti E infatti Ok E in teoria dovrebbero anche ripartire questo qua su Perché in teoria Quando sono pieni si ferma il tutto Eh, fammi vedere Fatemi vedere Mmm Siete un po' fermi Sì, siete decisamente Però si stanno iniziando a muovere Il ciò Tutto ciò mi piace Mi piace Devo dire che mi piace Ok, andiamo su No, andiamo su di qui Ok, perfetto Allora, andiamo a fare Adesso dei solar panel Perché solar panel? Perché servono? Solar panel Che dobbiamo fare un sacco di energia Dobbiamo fare proprio Avete presente cos'è un sacco di energia? Ecco, dobbiamo farne molto di più Non so se avete capito A cosa ci stiamo Stiamo andando incontro Perché se Stiamo andando incontro proprio a quello Allora, questo va qui Fermi, dudi Fermi, dudi, dudi Questo va a me Questo va qui Questo va in Almeno diverse stack A me Tipo almeno tre stack Questa può andare a posto E andiamo a mettere questo Tutto qui Perfetto Vai, cuociti Come se non ci vuole Dobbiamo fare un alloy fornays E' elettrica Fate vedere come si fa Alloy Alloy Blu elettrica Alloy fornays Ma così se Ma pa Così semplice Datemi della clay va Datemi della clay La farò diventare Sasha Sasha Clay Basta balletti di canzoni Che non esistono Però potrebbe diventare un gran tormentone, ma io avevo tutti quei brick, perché l'ho riposto? La testa, la testa brother, se la testa ogni tanto parte e dice no Renno, ma perché devi usarmi? Ma riposa, perché se riposi, poi sei più no? Quindi mi sembra giusto, mi sembra giusto prendiamo sto ferro, buona, e Blue Electric sia, a Blue Electric ho detto, buongiorno cazzo Blue Electric lo andiamo a mettere qui why? Questa è piena, questa è piena e queste due no why? Ci sarà che ci dobbiamo mettere più se questa la rompiamo e la mettiamo su tipo la mettiamo qui così, vediamo come funziona, intanto io andrei a piazzare proprio alla buona, qui questa sì, andiamo a fottere un sacco di energia brothers, perché ci serve oh yes! In teoria, quella dovrebbe essere decisamente più veloce di questa roba qui, quindi la, buongiorno salve, scusi, ma mi serve proprio che voi oh 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 beh 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 beh, decisamente meglio ah vedete adesso si stanno un po' più ricaricando bene 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 dobbiamo fare un sacco di solar panel comunque, con questi che abbiamo iniziamo a farne perché se no non faremo più andiamo no 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 per chi mi ha no renna renna ma quando fai certe cose dico io ma 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 bah blu alloy ah aluminium quello dicevo quello blu alloy lingotto non 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 mi ritorna no no non mi ritorna proprio ok e beh quattro solar panel sputate sputiamoci su sputiamoci tutti subito sono come così ok andiamo salta olé andiamo a metterli allora in teoria in teoria in teoria Quel cavo me lo dà come staccato Ma non è staccato Why? Chiedo scusa ma se io faccio così Ehm Scusate Forse sono solo dei bug Vabbè comunque non ci interessa Andiamo a fare così Andiamo a mettere questa roba Così Ecco qua Oh perfetto abbiamo già messo 4 solo al panel Quindi ci possiamo ritenere piuttosto soddisfatti Brothers mamma mia qua si ricarica il mondo Dovremmo fare anche altre batterie In effetti Dovremmo fare anche altre batterie Ma ci siamo dimenticati I blue dropper warfare Fucking dropper Con la roba lì Ok andiamo a metterne altri due su Allora Questo era il tetto Ok questo è il tetto Red power Il tetto red power Della nostra Della nostra centrale elettrica Ok quindi Adesso tappezzeremo tutto ciò Ma Ma vi faccio vedere Quella che era la mia idea Adesso io vorrei fare In maniera tale Che potessimo mettere Visto che siamo all'altezza Cento Scusa Scusate Vorrei controllare Centotredici Vorrei mettere una cosa Che tipo da qui Fa così Ok Sì Sì ci sta Ci serve della stone Andiamo a prendere della stone A casa Se abbiamo della stone Anche la cobblestone va bene Va benissimo lo stesso Qua siamo sempre pieni di tutto La vuol mettere Continua arrivare Come se ci fosse Non so cosa di magico Che la produce O semplicemente Il nostro Il nostro bellissimo Ah c'è no un po' di stone Nostro bellissimo Mass Fabricator Bella Ok andiamo su Diamo zu Allora stavo pensando Di mettere Ecco parte la che vabbè Dovremmo anche finire Con la storia lì Però qui Stavo pensando Di espandere il tutto Perché vogliamo espandere il tutto Adesso vi faccio vedere Se noi ci stacchiamo di un po' E basterebbe già Più o meno così Facendo tipo un ponticello Guardate molto carino Piazza Sì ma piazza Tipo qui E poi arriviamo Ecco qui Facciamo una strada Aspettate un po' Che giustamente Io rompo tutto E piazzo anche male Facciamo così Ci facciamo un altro pianerottolo Ecco qui Ed ecco qui Aspettate un po' Uno e due E andiamo un po' di qua No 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 Non cadere No no non cadere Che ti voglio tanto bene Uno e due Seguendo ovviamente Le proporzioni di quello Potremmo espandere La situation E mettere La parte Windmill Della situazione Che è una cosa Che mi piacerebbe Un sacco Non so a voi Ma a me piacerebbe Un sacco Tipo sotto Potremmo far passare Tutti i cavi No? E farli arrivare Qua dentro Posso in cui Anderemo a mettere Un MF Un MF Un MF Sì un MF Sì un MF Perché un MF Mi sa che è troppo piccino Quindi potrebbe essere Una cosa carina Un modo per utilizzare Tutto il ferro Che Beh di certo Non mi manca Visto che Ne ho 500 pezzi Ma posso farne Velocemente Altrittanti E facciamo un sacco Di energia Perché Brothers Vi spiego Il sistema della lava Mi ha rotto i coglioni Cioè proprio Sapete cosa significa O ne ho piene le palle Esattamente Proprio quello E quindi Pur di non Mettermi lì Di nuovo A A A A Andare giù Fai la lava La lava finisce Torna su Allora facciamo Una produzione Di elettricità E cosa sarà Sufficientemente Faica Potremmo metterci Col MF Fabbichetto La palla E giustamente Questo potremmo Una volta anche Spegnerlo Io ti odio Ti odio È tutta la serie Che mi sminchi l'acqua Ok Tutta la cazzo di serie E ti metto a 0.2 Non va bene E ti metto a 0.5 Non va bene No Non si fa così Noi dobbiamo collaborare Sai che cosa significa Collaborare Significa che Se io ti metto a 0.5 Tu Lavori a 0.5 E non cagli il cazzo Ok Detto questo Possiamo tornare su Molto molto tranquillamente Andiamo a vedere qua Come va la situation Ah qua lavoriamo sempre Alla grandissima E qui Invece Siamo a livello 8 Quindi là Un cazzo Però 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 Potremmo andarci a fare Un paio di livelli Mentre Qua ancora cuoce Perché qua sta ancora cuocendo No qua non sta cuocendo più niente Perché manca la nicolite La nicolite Un giorno saprai Che piacere anche a te Più che mai La nicolite Un giorno saprai Andiamo a metterla a posto Va che forse è meglio Ah qua siamo tutti Di nuovo tutto pieno Di nuovo tutto pieno Broters ma perché Andiamo a mettere su Questi solar panel Facciamo così Tanto il telefono Squilla giustamente Ciao telefono Buongiorno Alla gente Mi dice Rendi Ma com'è possibile Che ti scrivano In ogni cazzo Ti contattino In ogni cazzo Di video Mentre stai registrando No brother Non è che mi scrivano Mi chiamino Semplicemente io metto Una sveglia In silenzioso In maniera tale Che io mi renda conto Di quanto più o meno È passato Nella registrazione Del video Perché Sennò non riesco A caricarlo Perché diventa Troppo lungo Ok Allora Andiamo a fare Non mi devo togliere Sta cosa Della caduta Cadutosa Della power armor Allora facciamo così Facciamo Così Ok In realtà Basterebbe Anche solo Delle colonne Perché effettivamente Noi ci dobbiamo andare A mettere La Come si dice Dobbiamo andare a mettere Solamente Delle colonne Di cavi Che fanno così E ci prendono il tutto Penso che lo farò Con i cavi Di tin Fatevi sapere Se secondo voi Conviene fare La colonna Del Windmill Con i cavi Di tin O con i cavi Di Di diamanti Tanto possiamo fare Anche quelli No problem Allora intanto io qua Andrei a chiudere In questo modo Facendo una cosa Molto carina Tipo balconcino Non so se avete Presi Balconcino Una centrale elettrica Va bene Va bene brode E datemi la facina Va bene brothers Ok Andiamo a fare Questa cosa così Andiamo a mettere Che la La nostra ecco Qui Sarà un po' Rialzata Perché dobbiamo arrivare A 120 Quindi 1 E 2 Perfetto 120 Perché è Una posizione ottimale Da cui iniziare A far lavorare I nostri Bellissimi Windmill Stessa cosa Di qui Ok Ci potremmo anche mettere Volendo La Come si chiama La Tartle La Tartle Piazza Windmill Che avevo fatto Nella scorsa Nella scorsa serie Con Kaleda Non mi dovrei andare A prendere il programma Ma non è un problema Allora Detto questo Noi andremo a fare In modo che I cavi Faremo in modo che Saliranno tramite le colonne Probabilmente dall'interno Ma in natale che da fuori Non si veda Vedremo un attimo Come regolarci Poi anche per questo E Ovviamente Poi faranno la pilona Verso l'alto Per fare tanta energia Noi siamo contenti Di tutto ciò Io dovrei fare Porca puttana Scendi Dovrei fare un altro MFSU E altre batterie Perché queste stanno Piene come la morte Proprio Cioè Proprio la morte In confronto E vuota Effettivamente La morte è vuota Però va bene lo stesso Brothers Voi state A sentire le stronzate Che dico E divertitevi Che è più bello Se vi chiedete Che cosa significa Quello che dico Inizia a non essere più divertente I miei video Quindi non fatelo Dite semplicemente Che sono Oh yeah E basta Oh yeah Così Oh yeah Cazzo Potevamo metterli anche lì Fermi tutti Fermi tutti Mi fai salire Ho fatto un buco Ho fatto un buco No La rabbia La rabbia La rabbia Saudita La rabbia Saudita Ci dice ciò No eh Dove cazzo sono I miei Sono qui Dammeli Anche tu Anche tu Dammeli Dammelo Dammelo Signore Come faccio a prenderlo adesso Lo devo far cadere Devo farlo cadere Cadi Perfetto Andiamo a mettere questo qui Quel cavo non ci interessa Se è quello che vi state chiedendo Andiamo a mettere questo qua Andiamo a mettere questo a posto Allora Quello Lo mettiamo qui Questo lo mettiamo qui Vai giù Ok Andiamo a prendere questo Perfetto Saliamo su Ce la faremo Ce la faremo Ce la faremo Ce la devo fare No eh Oh Bella Grazie Andiamo giù Ok Mi abbiamo messo un sacco di solar panel Sono in questa puntata Sono felicissimo E devo controllare se con la WM Posso fare la Nicolita Ma penso di sì Intanto io me la vado a letto Perché la cosa bella di dormire Nelle puntate È che proprio fa figo Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate un mi piace Un commento Passate dalla pagina Facebook Perché sono felice Se passate dalla pagina Facebook Quindi andate a iscrivervi anche lì E enjoy E crernese con voi Bye bye Bye